Siamo in compagnia del signor Brianza Raffaele, proprietario di questa bellissima cantina. C'è il proprietario della cantina, dove è? Ormai è il vino fatto da lui, aglianica, poco fa l'abbiamo fatto, poi è passato ai filtri di stoffa. Da quanti anni fate il vino? E qual è l'emozione che provate ogni volta che c'è questo prodotto che pian piano viene fuori? Io ho fatto 53 anni di musica e ho fatto l'esperienza della vita come è. Quindi è un'emozione così come la musica il vino? Eh sì, tra vino e musica siamo abbinati. I vostri figli continuano questa tradizione di fare il vino? Sì. Gli piace diciamo? Gli piace. Grazie mille. Francesco Pietrantuono, assessore regionale all'ambiente. Com'è la manifestazione organizzata dal comune di Rapolla? È ormai consolidata, una manifestazione che funziona. Negli anni si vede anche oltre all'evento in sé che trova in vari eventi per la Basilicata, momenti simili, però riesce nell'operazione di valorizzazione. Molte di queste cantine finalmente ritrovano luce, hanno aumentato i loro prezzi, i loro valori di mercato, ci sono prodotti di grande qualità, c'è gente che complementa i propri redditi con questa attività. È una manifestazione che è decollata. Oggi lei è in veste sociale o in veste da turista? Sono in veste da merfitano, quindi da rapollese, diciamo, da amico di questa comunità. È molto particolare per lei, essendo della zona, vivere una manifestazione così importante e così significativa per la popolazione? No, oggettivamente l'abbiamo seguita. Far nascere questa manifestazione è stata dura per gli amministratori, Michele Sonness, Biagio Cristofaro, tutta la squadra, perché oggettivamente Melfi con la Varola è sempre fatto da traino, da volano, quindi inserire una manifestazione rispetto alla Varola è stata una sfida che alla luce dei risultati che vediamo, ma insomma si può dire vinte, quindi complimenti a loro che hanno fatto questo lavoro con molta fatica. Ci hanno creduto, Giovanni che sta qua, insomma, perché sono riusciti a caratterizzarla su una cosa che nel territorio non c'è, forse qualcosa c'è a Barile, però legare le castagne al vino, a queste cantine spettacolari, meravigliose, aver fatto un lavoro di recupero urbanistico, un percorso che ovviamente deve continuare, servono risorse, serve che la Regione accompagni questa cosa con più forza, perché non c'è solamente il finanziamento dell'evento, bisogna accompagnarlo, come è già stato fatto, con riqualificazione di pezzi di questo centro storico, però insomma, siamo a un buon punto, complimenti a loro, ora tocca un po' alla Regione dare una mano un po' più forte. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.